bene passiamo al video 7 crediti immobiliari e ritorno al passato qui parliamo degli ultimi dei tre ti ricordi che prima ti ho detto attento ai quei tre ecco questa è la terza strategia la stessa e la terza tecnica la terza nicchia che tu devi assolutamente conoscere e aggiornarti quindi se hai già comprato tutti i miei corsi ascolta bene perché cambiano continuamente le regole di settimana in settimana crediti immobiliari e ritorno al passato anche qui dopo è scontato che tu sappia già che cosa significa comprare un credito che tu abbia magari già acquistato il corso che è uscito il 10 gennaio scorso crediti immobiliari online è il primo corso in italia io adesso non so magari tu quando stai ascoltando ascoltando questo video reset ma fino ad aprile maggio 2020 non esiste nessun corso online in italia ok che insegni questa strategia percorso intendo un percorso formativo dalla a alla z no un video cioè un corso che ti dice fai questo questo e questo fino alla fine con i documenti da usare quello da fare eccetera non esiste in italia esistono solo seminari dal vivo che parlano di questa tecnica e anche in maniera molto vaga perché poi ci sono altri obiettivi vabbè lasciamo perdere comunque se hai frequentato il campus crediti o comprato il corso crediti immobiliari ovviamente dopo è scontato certe cose se invece sei digiuno sei a zero conoscenza non c'è niente di male bisogna iniziare prima o poi mi puoi chiedere aprendo un post nel gruppo academy diamond gli ultimi webinar gratuiti sugli argomenti ti invito per cortesia siccome so che so chi ha comprato che non ha comprato i corsi se hai già comprato i miei corsi non mi chiedere i webinar perché sinceramente non te ne fai niente perché un conto e un webinar gratuito dove ti da l'abc un conto e un corso quindi se se proprio devi vai su francesco gentile canale youtube te li trovi tranquillamente devi sapere che acquistare un credito ti posiziona in cima alla classifica degli investitori è un po che se conosci il calcio è come giocare in champions league non ci sono vie di mezzo veramente saper gestire un acquisto di credito per conto tuo anche per un conto di un tuo investitore o anche per conto mio se sei stato selezionato nella mia masterclass ti differenzia tantissimo da una persona che ad esempio sa fare solo le aste ok e la tecnica più speculativa è anche la più redditizia per speculativa intendo comunque ci sono dei rischi ricordati in generale che qualsiasi investimento immobiliare anche dalla dalla piccola mansardina comprata e ristrutturata con prezzo errato cioè non esiste un investimento immobiliare che ti dia la certezza che non ci sia un rischio ok conosco delle persone che hanno comprato casa all'asta e l'esecutato le ha fatte saltare in aria gli appartamenti dopo che ha avuto il decreto di trasferimento ha fatto esplodere l'immobile non solo ha perso i soldi ma il condominio gli ha fatto causa per risarcimento danni perché lui era il proprietario e lui ci doveva poi rivalere sull'esecutato ok l'esecutato ha avuto una denuncia penale mentre lui ha avuto una denuncia per risarcimento civile gli hanno chiesto dei soldi indietro che tu non hai idea per quello quando compri all'asta si fa un'assicurazione ovviamente no perché c'è dentro c'è un mitomane tu quello ti fa esplodere l'immobile o fa all'aga di proposito il vicino di sotto gli fa un danno per immobili antichi di 500 mila euro sei tu che paghi e poi diventi esecutato quindi in generale non esistono i rischi zero sugli investimenti immobiliari non esistono anche nelle società di crowdfunding tu chiedi l'ho fatto lo mette per iscritto c'è sempre un minimo rischio del di perdere il capitale anche con gli immobili se ti compri una casa per metterla in affitto e viene ad esempio il terremoto hai perso la casa oppure c'è quello di sotto che si dimentica il gas si suicida esplode il palazzo tu hai perso la casa ok quindi ci sono sempre dei rischi è ovvio che si calcola in percentuali cioè questi eventi possono essere ridotti però in generale che molti mi dicono ma coi crediti puoi perdere i soldi ma intanto con i crediti forse l'unica strategia che nel caso in cui tu sei una persona prudente acquisti un credito fai come le reocco ti presenti all'asta come creditore e sei te che animi l'asta al massimo se vedi che c'è poca gente te lo intesti ti compri l'immobile e poi te lo rivendi o al massimo se proprio sbagliati i conti te lo metti in affitto quindi ogni ogni investimento hai sui rischi comunque in generale saper trattare e per trattare vuol dire conoscere a mena dito questa tecnica e aggiornarsi ogni giorno i crediti posiziona e ti farà guadagnare tanti soldi perché le persone ti chiederanno di poter concludere affari per conto loro ok fino a cinque anni fa acquistare un credito era riservato a sole società veicolo che acquistavano pacchetti di crediti per importi milionari per i singoli acquirenti questo business era vietato cioè nessuno conosceva neanche questa possibilità negli ultimi anni invece le banche hanno iniziato a cedere i loro credi i crediti anche a persone fisiche e per singole posizioni e questo ha creato una serie di vantaggi agli investitori immobiliari che possono guadagnare su immobili all'asta dove c'è tanta concorrenza quindi tu magari ha individuato un immobile che vale mezzo milione hai visto che andrà all'asta 250 mila euro dico caspita lì ci sarà la coda ci sarà la folla ci saranno le agenzie immobiliari ci saranno i consulenti allora cosa faccio magari prova a comprare direttamente il credito a 250 poi partecipo all'asta se veramente l'immobile ho fatto bene i calcoli vale mezzo milione io guadagnerò dai rilanci che farà la concorrenza quindi se poi viene venduto a 350 io ho guadagnato 100 mila euro investendo nei 250 se poi viene venduto a mezzo milione e così via più sale il prezzo più guadagni al contrario se sbagli il prezzo devi partecipare all'asta come strategia principale e aggiudicarti l'immobile te che poi comunque già tuo perché hai comprato il credito in maniera precedente in precedenza e poi te lo vedi nel mercato libero in ogni modo anticipi la concorrenza spiegato così in due secondi non puoi pretendere che io riesca a trasferirti tutti i concetti che io ho impiegato anni per assimilare e ogni giorno devo chiamare il mio avvocato genovese per chiedergli consigli perché le regole cambiano sempre ok con il passare del tempo le banche però hanno continuato a cedere anche i pacchetti di crediti per importi sempre più elevati e per gli investitori sono rimasti adesso solo le briciole i nuovi interlocutori ricordatelo non sono più le banche ma sono le nuove società detentrici del credito che hanno comprato il credito pacchetti di credito miliardari a dalle banche queste società sono società veicolo che poi hanno affidato il loro patrimonio a dei marketplace che sono degli intermediari che vendono crediti o tramite saldo e stralcio o tramite cessione del credito stesso o tramite la vendita dell'immobile poi all'asta e recuperano per conto della società quanto di plusvalenza la differenza sostanziale quindi quant'è il change qual è il cambio il reset che prima trattavi con una banca che sapeva di perdere già dei soldi perché comunque sapeva di accontentarsi di un qualcosa mentre invece adesso tratti con delle società che lo fanno solo per guadagnare quindi non sono società che hanno prestato dei soldi e non li hanno recuperati sono società che hanno comprato dei crediti a un costo irrisorio e cercano di guadagnare dalla differenza ok quindi si è creato un nuovo mercato molto più particolare molto più riservato molto più di nicchia che per ha eliminato in poco tempo gli investitori abituati a trattare con le banche quindi ci troviamo a figure nuove con obiettivi diversi come tu appena detto la banca trattava e accettava la perdita la società ha solo un obiettivo comprare bene e vendere fare profitto ok per fortuna queste società acquistando miliardi di euro non milioni di pacchetti di credito hanno ottenuto anche sconti che sfiorano l'80 per cento basta che vai su in te sul sole 24 ore online scrivi acquisto di crediti immobiliari intesa san paolo vedrai una serie di articoli e ti vedi che quanti miliardi hanno ceduto e quanti sconti e che percentuali di sconto medio fanno quindi a volte si accontentano anche di un 10 per cento di ritorno sull'investimento sai un 10 per cento su 3 miliardi di euro insomma sono tanti soldi ok quindi cambiano completamente i concetti quanti confronti con i miliardi con i milioni di euro quindi devi essere una figura che rappresenta diversi investitori oppure che sta trattando per una singola operazione che ti interessa ma se vuoi fare il botto devi guadagnare facendoti pagare dagli investitori che non hanno esperienza in maniera tale che tu possa gestire guadagnare su tante operazioni mentre invece se compri un immobile di mezzo milione di euro poi magari devi aspettare di rientrare nel frattempo perché ricordati non fanno il mutuo sull'acquisto di un credito quindi o hai un fido ipotecario come sottoscritto garantito dai mobili di mia proprietà e dove ti garantiscono il 50 per cento della perizia degli immobili quindi hai un fido dove automaticamente puoi prendere del cash però quando hai la possibilità di poter sfruttare questa tua arte dando la disposizione di persone che non ne capiscono niente o che hanno deciso giustamente di far lavorare i soldi al loro posto tu puoi essere pagato per portare a termine queste operazioni che ripeto si fanno tutte comodamente sedute da casa i miei masterclass chi si è candidato per la masterclass ti ricordo che cinque anni di masterclass per di valore sono 30 mila euro però significa che tu per cinque anni hai continuamente segnalazioni visibilità nei confronti dei miei investitori che pagano direttamente me e a te ti viene girata subito una quota del fondo spese poi ti verrà data una quota della percentuale in automatico è una macchina vincente perché tu guadagni senza dover trovare il cliente il investitore guadagna perché ti mette dei soldi per moltiplicarle per guadagnare che ne so un 10 un 15 un 20 un 30 per cento e il formatore l'investitore l'ideatore della strategia guadagna perché comunque mette in comunicazione il consumente masterclass con l'investitore procacciato da sottoscritto per entrare in affari con queste società occorre avere dei requisiti molto particolari e società create ad hoc per l'acquisto di crediti in diversi casi è possibile acquistare come persona fisica singoli crediti e di proporre anche soluzioni di saldo e straccio ad esempio la soluzione di saldo e straccio è sempre vista ultimamente in maniera positiva qualche mio studente tempo fa mi chiese se valutavano il saldo e straccio e io mi sembra che era il primo di gennaio febbraio gli dissi no loro sono lì per vendere i crediti quindi invece adesso ti dico da quando c'è successo questa cosa del covid se mi stai ascoltando le cose sono cambiate perché sono anche lì predisposti per fare il saldo e straccio quindi sono situazioni che cambiano quindi quello che dici oggi magari fra una settimana poi viene completamente rivoluzionato non smentito perché quello che ti dico oggi è la pura verità però qui stiamo parlando con degli enti che viaggiano e ragionano e cambiano regole alla velocità della luce perché sono delle società private e fanno un po quello che gli pare piace ok quindi in questo periodo di covid 19 stanno lavorando molto con i loro accreditati la chiusura delle aste ha fatto sì che il loro lavoro di aumentasse per via degli investitori desiderosi di sfruttare questo momento per poter instaurare le trattative con loro occorre essere accreditati anche per singola posizione quindi se non ti danno l'accreditamento generico perché magari in questo momento sono un po più resti perché hanno troppo lavoro puoi anche chiedere l'operazione singola quindi gli mandi l'accreditamento per singola operazione quella te la danno subito e ci sono periodi come questo che ad esempio molti che frequentano il campus hanno riscontrato che non danno l'accreditamento abbiamo telefonato proprio alla direzione generale hanno detto che in questo momento stanno praticamente non hanno tempo neanche di respirare da tutte le richieste che stiamo facendo noi che siamo accreditati e da società che gli stanno comprando miliardi di euro quindi è ovvio che si stanno concentrando come vedete anche il covid 19 non ha affermato questo tipo di opportunità io subito all'inizio credevo che addirittura questo potesse essere per loro un momento morto dove nessuno gli avrebbe fatto delle proposte perché le aste erano anche chiuse invece come vedete molti hanno pensato come me e hanno approfittato di questo momento comunque c'è spazio per tutti per carità è possibile fare domanda di accreditamento per avere posizioni mensili o per una singola e precisa operazione che ti interessa acquistare il gioco non è semplice le regole sono poco chiare e sono loro a cambiare rotta ogni singolo giorno non è dato sapere come ragionano e quali sono le politiche e strategie una cosa è certa se vuoi fare soldi quelli veri devi passare da loro perché se i loro immobili arrivano all'asta stai certo che affari non ne concludi perché si difendono poi con reocco fanno alzare il prezzo e così via hai due modi per farla franca quindi o paghi chi è accreditato ti fai fare le segnalazioni e poi fai domanda di accreditamento e loro ti seguono la pratica allora pagare chi è accreditato ad esempio un avvocato e fai proprio bingo perché se tu ad esempio trovi un avvocato che ha tutte le posizioni lui ti fa firmare la dichiarazione di riservatezza ti manda tutte le posizioni della tua città dopodiché tu gli dici senti guarda fammi la proposta per questo appartamento a x euro se la proposta viene accettata ovviamente essendo anche avvocato lui oltre averti dato la posizione si fa pagare per seguirti dalla ala z tutta l'operazione ovvio che più importante l'operazione ci sono avvocati che ti possono chiedere anche 20.000 euro dipende dal guadagno se tu vuoi fare un'operazione dove chiedi uno sconto che ti fa guadagnare magari 200.000 euro loro magari ti chiedono anche 40.000 euro se un'operazione cina da 30 40.000 euro ti possono chiedere giustamente 5 6 7 mila euro quindi il fatto di trovare un legale accreditato vi assicuro che non è facile trovare questi legali noi ne abbiamo trovati al momento ne abbiamo tre ufficialmente ma due ci abbiamo messo quasi un anno e mezzo per trovare queste persone che ci danno le posizioni e siccome coincidono con l'avvocato cioè con la professione di avvocato prendi due piccioni con una fava hai le posizioni e in più ti fanno la pratica e te la seguono legalmente si assicurano che non stai comprando un immobile un credito che magari ha il rischio di rientrare nella legge sovrandebitamento oppure nella nuova legge salva pignoramento che ci siano dei problemi ti assicurano ti seguono fino alla fine insomma e in più ti fanno anche la trattativa diciamo che bisogna avere la pazienza e la fortuna di trovare questi avvocati e di rimandarti queste segnalazioni ad esempio nella mia nel campus reclute si il campus crediti una dozzina di partecipanti che ho selezionato appunto per entrare in questo percorso hanno proprio i nominativi degli avvocati e non sanno neanche la fortuna che hanno perché non solo riceveranno le segnalazioni ma in più sono anche avvocati e sono avvocati che fanno solo quello quindi significa che una volta che tu gli dici guarda fammi questa offerta loro ti dicono ok va bene sei conclusa mi devi dare questi soldi per poterti seguire fino alla fine anche perché comunque ricordati che l'acquisto del credito è l'unica fase che non si può fare da sola da soli quindi occorre sempre un avvocato esperto del settore e i costi sono molto alti d'altronde se vuoi guadagnare 50 mila euro mettendone magari 70 è ovvio che quello vuole la sua parte qui stai parlando con alta finanza non stai parlando con la cessioncina del compromesso e col geometra per fare il frazionamento eccetera qui stiamo parlando di champions league quindi se parli con un professionista di questo tipo e incominci a fare anche amazon caro eccetera non ti parleranno mai più per chi vuole sfruttare questo business deve sapere che le regole cambiano anche ogni mese purtroppo la mia previsione per colpa di questa crisi sanitaria ci saranno nuove esecuzioni immobiliari tra qualche anno purtroppo e le banche continueranno a cedere a terzi i loro crediti senza passare per la vendita all'asta quindi sarà un po come ritornare al passato di quando c'è stata la crisi dei mutui del 2008 e quindi per i prossimi 5 7 10 anni ci saranno molte situazioni identiche alle precedenti da investitore magari puoi anche festeggiare dal punto di vista invece di famiglie che avranno difficoltà c'è poco da sorridere però la situazione è questa che tieni presente che tu non stai trattando con delle famiglie ma stai trattando con delle società che hanno solo uno scopo speculativo quindi te stai trattando con loro quindi non stai parlando con nessuna famiglia quindi è una previsione basata su una legge nata sotto covid 19 lo scorso marzo che incentiva le banche a cedere i loro crediti con un premio sotto forma di credito d'imposta pari al 20 per cento massimo dalla perdita sostenuta quindi significa che una banca x con un credito di 100 mila cede a una persona fisica una società a 20 mila euro questo credito di 100 loro perdono 80 mila ma recuperano il 20 per cento quindi 16 mila euro di credito d'imposta quindi cercano di limitare anche le perdite mentre invece se lo dovessero vendere all'asta 20 mila loro siccome rimangono ancora creditori di 80 mila euro verso l'esecutato non li prenderanno mai ma rimangono creditori non avendo avuto una perdita perché hanno ancora il credito vivo non hanno neanche il vantaggio del credito d'imposta quindi per questo è un ottimo momento adesso fare proposte di saldo estralcio fare proposte di acquisto del credito perché ci sono create una serie di reggi di regole di condizioni di momenti che sinceramente metterli tutti insieme così solo un ottimista poteva pensarci quindi è adesso il momento non quando si tornerà tutto a regime quindi se vuoi sfruttare questo momento inizia subito a studiare come si guadagna con i crediti attenzione i crediti immobiliari non li impari gratis non li trovi gratis non li trovi su youtube io ho dato una serie di webinar in passato su youtube li ho pubblicati sono lì ci sono 7 8 10 ore di registrazione però attenzione insegnare il metodo è una cosa spiegare che cos'è un credito è un altro discorso quindi non esistono gratis queste cose anche perché comunque non verrebbero mai apprezzate perché sono cose molto complesse alla gente di gratis piace vedere video su video divertenti video dove si giocano su facebook dove giocano alla playstation cioè le cose gratuite su youtube non funzionano mai fermo restando che io sono un imprenditore e studiare aggiornarmi costa perché gli avvocati io li pago non mi fanno niente di gratuito e quindi ovviamente faccio girare anche le informazioni ma faccio girare anche il mio metodo quindi se vuoi guadagnare con i crediti immobiliari posizionarti come figura autorevole e quindi poi vedere le persone che pendono dalle tue labbra dalle tue decisioni e farti pagare migliaia di euro per singola operazione allora devi studiare prima prima studi e poi insegni se invece rimani ignorante e non vuoi investire informazione non vuoi investire niente ti limiti soltanto a fare il like a quella persona che poi dice concluso operazione da 250 mila euro non sto esagerando lo scorso settembre live crediti immobiliari abbiamo presentato l'operazione di un nostro corsista che saluto che si chiama davide che ha concluso un'operazione su roma su un locale commerciale con un investimento di 70 mila euro una plus valenza di 250 mila euro ok acquisto eccessione di credito con un avvocato romano ok quindi questi sono i numeri signori questi sono i numeri io ho creato due percorsi da poco quello del 10 gennaio e quello del campus crediti che sono diversi campus crediti da i modi per fare domanda di accreditamento e ti dà anche il paracadute qualora la domanda di accreditamento non sia subito accettata e ti dà proprio i numeri dei professionisti che ti danno le segnalazioni che addirittura poi ti seguono la pratica ovviamente sono pagati non è che lo fanno gratis ma tanto se te lo trovavi te da solo all'operazione comunque dovevi sempre pagare l'avvocato quindi abbiamo trovato una un'ottima soluzione se invece vuoi imparare proprio il metodo da zero corso crediti online del 10 di gennaio scorso è un corso molto lungo avanzato l'unico in italia mi scrivi via mail relax.immobiliare chiocciolai.it eventualmente mi chiedi tutti e due i percorsi e vediamo come farti accedere a queste informazioni nel prossimo video parliamo di davide contro golia e capirai perché molti guadagnano e altri invece proprio non ce la possono fare non hanno speranza ci vediamo nel prossimo video